Buonasera, sono Marcello Spadone del ristorante da bandiera di Civitella Casanova. Mi trovo qui a Farindola, alla sagra del pecorino, un prodotto straordinario, oramai famoso in tutto il mondo. Ho fatto un piatto, sono dei ravioli con pecorino fresco all'interno, una farce di pecorino fresco, mantecati con latticello, il latticello è l'acqua di quando si fa il formaggio, praticamente priva di grassi e ricca di nutrimento. Ho fatto questo raviolo mantecato con latticello, liquirizia e zafferano dell'Aquila. Tre elementi, tutti locali, tutti elementi eccezionali che il nostro Abruzzo ci offre. Un applauso agli organizzatori di questa manifestazione, perché hanno avuto l'accortezza di organizzare nell'interno della sagra un angolo dello chef. Grazie. Grazie. Sono tutti i chef che rappresentano l'Abruzzo molto bene anche a livello nazionale, chef stellati e non, dove ogni chef fa un piatto gourmet con prodotti tipici del territorio, in particolare il pecorino di fariglia. Grazie.